ciao bettornato sul canale di stats for bets nel video di oggi ricominciamo immediatamente a studiare la serie a si è appena conclusa la giornata e champions league oggi c'è ancora europa e conference league ma domani ricomincia già la serie a quindi noi cominciamo subito con i video da oggi partendo per le partite di domani e sabato e poi domani farò un altro video in cui invece come al solito analizzeremo le partite della domenica e poi del big match del lunedì perché si affrontano l'inter e la lazio quindi è un nuovo weekend veramente ricco di impegni e super super interessante insieme come sempre ci stanno i libracci metodo stats for bets e tipster robot che trovate su amazon e proprio ieri vedevo che tipster robot è nuovamente tornato primo come tra i libri più venduti su su amazon e quindi come al solito non posso che ringraziarvi allora andiamoci a prendere il superfoglio prima vi faccio vedere quest'articolo del blog se non lo avete ancora letto perché ci sono degli aspetti che possono servire per fare chiarezza su alcune cose le cifre che non vengono tassate i siti a cui fare attenzione se non volete pagarci le tasse insomma è tutto spiegato qui e poi come sempre l'iniziativa per andare allo stadio insieme vi invito a leggerlo perché i biglietti sono ancora da assegnare e faremo l'estrazione proprio tra pochissimi giorni il 15 quindi ti aspetto sul blog per leggere queste informazioni andiamoci a prendere la serie a intanto qui stavo vedendo un po di roba su bollamaker e si comincia domani con empoli torino allora mi sono ricordato all'ultimo secondo prima di cominciare il video ricordati di lasciare un like e di seguire il canale proprio sul filo del rasoio questo è tipo un gol al novantesimo me lo sono ricordato allora empoli torino match piuttosto interessante perché l'empoli sta facendo una stagione incredibile cagliari atalanta udinese napoli juve venezia e poi tutte quelle della domenica e il big match come vi dicevo lazio inter per lunedì quindi cominciamo subito empoli torino è un match interessante veramente molto interessante perché l'empoli sta facendo veramente una super stagione e invece il torino vive un momento di crisi perché comunque non vince da un non so quanto tempo ha fatto a inizio stagione era addirittura primo in classifica in un momento dopo qualche giornata ha fatto i punti necessari per non stare con l'acqua alla gola ma se continua così ci ci manca poco da dall arrivare con l'acqua alla gola mentre l'empoli propone proprio un calcio anche propositivo l'abbiamo visto anche a verona c'è un empoli veramente si ha perso 3 a 0 col milan ma era una situazione un po po nomala quindi con quote altissime perché andiamo a vedere sono tutte super quote super quotone io la sposterei sulla 1 x non me lo aspetto l'empoli perdere in casa con questo torino poi ci sono varie cose strane no c'è l'under 2.5 come prevalenza però c'è la forbice la forbice a quella classica metrica che invece solitamente ci porta a partite con qualche gol in più e qualche over che ci sfugge quindi potrebbe essere non è segnalata come metrica super over però potrebbe diventarlo con qualche cambiamento interno magari di di allibramento qualche quota che cala ulteriormente quindi potrebbe sfociare in un over uno e mezzo che sicuramente si troverebbe a quota molto alta ecco non è un super over perché la quota dell'under è troppo bassa quindi il motivo è principalmente questo però potrebbe diventare anche un super over preferisco spostarla sulla 1 x però potrebbe essere una un'opzione cagliari atalanta allora qui c'è da parlarne perché l'atalanta anche contro il real madrid meritava sicuramente di più il problema è reteghi reteghi tra l'altro io lo seguo in maniera particolare perché ce l'ho al fantacalcio quindi vedo l'atalanta guardando praticamente c'ho il mirino solo su reteghi e gli ultimi due gol mangiati sono un po' preoccupanti quello col milan poi magari passa in secondo piano perché vinci lo stesso è andato solo contro il portiere in volata si era il novantesimo ma lui era entrato a dieci minuti quindi non è che potesse essere stanco e poi quello corre al madrid è da capire se poi sarebbe stato in fuori gioco oppure no quindi il telecronista ha detto speriamo che reteghi fosse in fuori gioco perché sbaglia un gol da dentro la porta non vorrei che viva un momento di calo psicofisico e contro un cagliari che comunque sta lottando per salvarsi deve fare punti per salvarsi potrebbe essere un anche la fiorentina affaticato a battere il cagliari potrebbe essere una piccola incognita in più è vero che di davanti l'atalanta non è che c'ha problemi di di chissà che tipo cioè nel senso si alternano anche c'è stato un momento della stagione che lucman era un po in calo poi c'è avuto il calo dei chetelare quindi gasperini fa girare come trottole anche per quel motivo ci sta la vittoria dell'atalanta però bisogna anche tenere conto che l'atalanta in sé per sé ma qualunque squadra in generale prima o poi va incontro all'interruzione della serie ossia non lo so adesso mi sembra siano addirittura nove vittorie consecutive si dovranno fermare prima o poi quindi qui il ragionamento statistico è difficile farlo cioè tu sai che prima o poi questa serie si interrompe però non sai qual è il momento giusto se guardi solo i numeri e quindi non pensi a quella cosa per me si può provare un esito un esito due altrimenti per un uno slot di partite che adesso diventa interessante perché l'atalanta ne ha già vinte otto nove di seguito si può provare a quota molto alta soprattutto quando incontra squadre più piccole viceversa la la 1x o la x2 in base se gioca in casa o meno perché prima o poi questa serie di vittorie si si dovrà interrompere e qui noto questa cosa super interessante che trovi sul blog che è la dispersione della vittoria ossia nei risultati esatti il superfoglio ci indica un risultato a sorpresa che però è il risultato più frequente quando si verifica la sorpresa quindi quando c'è questo 57 per cento di vittoria in questo 43 per cento di non vittoria anche se non è il risultato più probabile tra quelli meno probabili il più probabile è l'uno a uno ed è una valutazione molto interessante non tanto per come la vivo io non tanto per prendere il risultato esatto proprio in sé per sé perché il risultato esatto sappiamo la difficoltà basta veramente un capello per perderlo però magari a quel punto per rischiare la 1x questa se uno vuole fare qualcosa di diverso dal solido piuttosto che puntare sull'atalanta o cercare esiti più facili come potrebbe essere la x2 che sarebbe pagata poco eccetera eccetera è un ragionamento interessante e contro statistico sulla sulla 1x udinese napoli qui il ragionamento invece che faccio sul napoli è leggermente inverso nel senso che la sconfitta e il periodo diciamo non non di crisi non si può dire crisi una squadra che è stata prima in classifica fino a cinque minuti fa però un periodo di calo no perché pare poi di calo pareggi con l'inter quindi è un ottimo risultato perdi con l'atalanta e perdi con la lazio praticamente c'hai qualche battuta dal resto con squadre che stanno tutte al tuo livello quindi ci sta assolutamente l'udinese vince questa partita a monza che diri da un po d'aria perché veniva da un periodo negativo e anche l'udinese un po come il torino non si può parlare di crisi perché ha fatto i punti a inizio stagione perché però qui era parecchio che non veniva fuori qualcosa di positivo quindi per me si può spingere un pochino sul napoli e lo dico in maniera totalmente autonoma rispetto all'intelligenza artificiale perché invece l'intelligenza artificiale è un po più cautelata c'è il 51 per cento sul napoli quindi la preferenza c'è però insomma stiamo su risultati e statistiche abbastanza equilibrate qui se uno vuole essere cautelato ecco qui se uno vuole essere cautelato ha senso la x2 perché a 1 e 75 la quota quindi la x2 la trovi intorno all'1 e 20 e la quota 1 e 20 secondo me è buona per una doppia chance la quota 1 e 20 non è più buona quando la devi giocare sul segno fisso è un po troppo poco o rischi diciamo che non vinca e sarebbe una quota troppo bassa però sulla sulla doppia chance secondo me è una è una quota interessante è una quota che va utilizzata per fare magari un raddoppio o una multipla è una buona opportunità e credo che ci sia su un match del genere anche in questo caso sempre per chi vuole spingere un po di più il due secco quindi a 1 e 75 il due secco è un'opzione che che mi terrei perché comunque il napoli sicuramente vorrà ripartire gli è rimasto solo il campionato perché ha fatto una scelta un po così strana conte mettendo tutte riserve in coppa italia quindi è uscito dalla coppa italia significa che punti tutto solo sul campionato quindi per me ci sta la x2 juventus venezia non credo che ne dobbiamo parlare più di tanto perché una squadra che batte il manchester city nel momento in cui incontri il venezia se non vinci c'è qualcosa di problematico non vince da tanto perché sono tre partite con tre pareggi consecutivi e se va bene con il milan non va bene con lecce e bologna il venezia non lo so quale quale miracolo possa succedere improvvisamente perché gioca pure però non non fa punti da tantissimo non credo che che sia questa l'occasione adatta per andare a fare punti sinceramente con tutto il rispetto e l'affetto per il venezia e direi che chiudiamo con non so ci vogliamo mettere pure lette lecce monza mettiamoci lecce monza così facciamo 5 5 altra partita piuttosto complicata perché queste queste stanno proprio con l'acqua alla gola il lecce di giampaolo era ripartito bene con queste due vittorie poi prende questa imbarcata anche un pochino strana con la roma perché in alcuni tratti ci ha messo anche in difficoltà il monza invece sembra un po come il venezia in questo momento proprio veramente incapace di rialzare la testa quindi a quote molto alte e tra l'altro con rialzi significativi perché a 2 15 passa a 2 45 e qui addirittura ce ne sono diverse che vanno oltre il 2 45 c'è interessante anche qua il super over però partite così sentite non lo so quanti gol ne potrebbero venire fuori secondo me anche questa si sposta sulla 1 x anche andando contro questo rialzo di quota perché il lecce insomma era ripartito bene con giampaolo ha perso male con la roma secondo me può nuovamente partire bene ripartire bene il monza lo vedo un pochino più più in difficoltà in in questo momento per questo video direi che è tutto come al solito se ti è piaciuto lascia un like ci vediamo nel prossimo video